Odoacre, il barbaro che depose l'ultimo imperatore romano. Odoacre, il cui nome significa il guardiano della ricchezza, è una figura enigmatica e affascinante della storia. Nato in Pannonia, l'odierna Ungheria, intorno al 433 dici da una famiglia di origine germanica, egli si distinse come abile militare al servizio dell'impero romano d'Occidente. Nel 476 dici, guidò una rivolta di soldati barbari contro l'inetto imperatore Romolo Augustolo, deponendolo e ponendo fine all'impero romano d'Occidente. Le origini e la carriera militare Le informazioni sulle prime fasi della vita di Odoacre sono frammentarie. Si presume che suo padre, Edicone, fosse un capo tribù sciro uno al servizio di Attila. Odoacre crebbe in un ambiente multiculturale, assimilando le lingue e le usanze latine e germaniche. Entrò a far parte dell'esercito romano in giovane età, scalando rapidamente i ranghi grazie al suo valore e alle sue capacità. Nel 472 dici, sotto il comando del generale Oreste, Odoacre si distinse nella difesa dell'Italia contro gli invasori visigoti. La deposizione di Romolo Augustolo e la nascita del regno di Odoacre. Nel 475 dici, Oreste assunse il potere come reggente per conto del figlioletto Romolo Augustolo, un bambino di appena dieci anni. La sua scesa al potere alimentò il malcontento tra i soldati barbari, che si sentivano sfruttati e malpagati. Nel 476 dici, Odoacre si pose a capo di una rivolta di soldati barbari. Le sue truppe marciarono su Ravenna, la capitale imperiale, e costrinsero Oreste alla fuga. Romolo Augustolo, deposto e dichiarato decaduto, fu esiliato in Campania. Con la caduta di Romolo Augustolo, l'impero romano d'Occidente cessò di esistere. Odoacre, pur non assumendo mai il titolo di imperatore, si proclamò Rex Italia e re d'Italia, e governò la penisola italiana per 17 anni. Il regno di Odoacre. Il regno di Odoacre fu caratterizzato da stabilità e prosperità. Egli si dimostrò un sovrano capace e pragmatico, adottando una politica di tolleranza religiosa e di collaborazione con la classe dirigente romana. Odoacre mantenne buone relazioni con l'impero romano Oriente, riconoscendo l'autorità dell'imperatore Zenone. Tuttavia, la sua ambizione di espandere il suo dominio in Gallia lo portò a scontrarsi con il re dei Visigoti, Teodorico il Grande. La sconfitta e la morte. Nel 489-10, Teodorico invase l'Italia con un poderoso esercito. Odoacre fu sconfitto in una serie di battaglie e si rifugiò a Ravenna, dove venne assediato per tre anni. Nel 493-10, Teodorico uccise Odoacre con un inganno durante un banchetto, ponendo fine al suo regno. L'eredità di Odoacre. Odoacre è una figura controversa nella storiografia. Alcuni lo considerano un usurpatore barbaro che distrusse l'impero romano, mentre altri lo vedono come un abile condottiero che garantì stabilità e sicurezza all'Italia in un periodo di turbolenza. Indipendentemente dalle interpretazioni, il ruolo di Odoacre nella storia è innegabile. Egli segna la fine dell'antichità classica e l'inizio del Medioevo, aprendo la strada a nuove formazioni politiche e culturali in Europa.